Siamo felici di avere insieme a noi un protagonista di una di quelle iniziative che fanno certamente onore alla nostra città, parlo in particolare delle cucine popolari. Noi siamo in diretta in questo momento con Giovanni Melli, che è il presidente di Civibò. Civibò è un'associazione a cui fanno riferimento le cucine popolari, non solo, l'associazione poi fa anche tante altre iniziative. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a lei. Diamoci del tu perché ce lo davamo, continuiamo diciamo così. Ho avuto il piacere di conoscere Giovanni proprio alle cucine popolari, di farmi raccontare anche la sua storia e il suo impegno. Fra l'altro Giovanni, oltre che fa il presidente, fa anche il cuoco alle cucine. Quindi, come dire, non è soltanto dietro a una scrivania. Giovanni, volevo chiederti innanzitutto come sta andando il vostro lavoro e come è cambiato con il Covid, quali difficoltà avete e come fate fronte a queste difficoltà. Perfetto. Il Covid ci ha sconvolto la nostra attività da cima a fondo, a partire da dover prendere atto la realtà del grande impoverimento che sta producendo la pandemia, il numero delle persone che accedono alla nostra mensa sono passate da 280-300 all'inizio del Covid a oltre 500 adesso e questo per noi è stato molto complicato. Ovviamente all'inizio la nostra attività era rivolta prevalentemente alle persone fragili, non alla povertà assoluta. pensavamo di lavorare proprio per prevenire un po', per rallentare lo sprofondamento su questa fascia di popolazione. La pandemia ce l'ha sconvolta completamente. Allora, quelli che venivano a mangiare da noi perché persone sole, perché preferivano mangiare in compagnia con l'evento della pandemia, sia per la paura, sia per tutto quello che questo comporta non è più venuta ed è stata sostituita da gente che improvvisamente si è trovata a dover fare i conti con il pranzo e la cena, per dire che non avevano un pasto e avevano bisogno di un pasto caldo, di un pasto sicuro. E questo noi gliel'abbiamo garantito. Ovviamente il passaggio per poter affrontare questi numeri e per poter affrontare la pandemia è stato quello di non stare più in sala, mensa, ma di passare alla modalità di asporto. Quindi noi siamo dall'inizio della pandemia in asporto, distribuiamo i pasti governando le fine delle persone e dando a loro un primo, un secondo pane, frutta e acqua, però a partire dalle 10 del mattino fino verso l'uno e mezza, in modo che soprattutto la messa più grossa, dove mediamente arrivano 300 persone, si possa affrontare questo problema in maniera tranquilla, distanziati e cercando di proteggere sia i nostri ospiti ma anche e soprattutto i nostri volontari perché se dovessero scoppiare un focolaio, dovessimo chiudere le cucine sarebbe un grave problema. Sì, sarebbe un disastro. Fra l'altro dalle tue parole evinco anche che purtroppo questa pandemia ha tolto comunque non certo il servizio che state continuando a dare meritoriamente grazie al vostro lavoro, quello dei volontari, ma tutto quell'alone di socialità che naturalmente era un valore non tanto aggiunto, un valore in sé nell'esperienza delle cucine popolari. Io stesso, come tanti altri, siamo venuti ospiti da voi per mangiare insieme, fare delle chiacchiere in tavolata che è poi appunto la bellezza anche dell'esperienza. Ti facevo una domanda invece sulla composizione del volontariato. Io ricordo che nella prima ondata Covid viene fatto anche un appello perché tantissimi volontari hanno una certa età, sono grandissime persone, tra l'altro molto bravi, bravi a far da mangiare molto spesso o comunque a curare il servizio, ma con certi anni sulle spalle. È chiaro che sono più esposti in questa situazione, quindi il vostro appello era anche per coinvolgere persone più giovani. E so che c'è stata una grande risposta e c'è anche un po' un ricambio generazionale nel senso che sono entrate anche a collaborare come volontari tanti giovani. È così o è solo una mia percezione? No, è così. Voglio fare un attimo un po' di cronistoria di questa vicenda perché a noi il fatto a un certo punto, poco dopo l'inizio della pandemia, di dare questa indicazione, di lasciare a casa i volontari al di sopra dei 65 anni, oltre a trovarci impreparati, nel senso che nessuno ci ha preavvisato, ci hanno trovato di colpo questa cosa con grandi interrogativi perché non è che noi l'avessimo condivisa fino in fondo questa cosa. Di per sé capiamo il tema del preservarli dalle eventualità di infezioni e roba del genere, ma il motivo vero, probabilmente non è stato esaminato che cosa questo comportasse in generale perché nella nostra regione gran parte del volontariato civile, chiamiamolo così, a partire dalla protezione civile per alcuni versi, ma anche da altre associazioni, è tutta gente che ha una certa età, che ha superato i 60-65 anni, gente che è andata in pensione. Per cui ci siamo trovati a dover lanciare questo grido di aiuto e siamo stati sorprendentemente subissati, diciamo così, da disponibilità di tanti giovani, di tante persone. C'è stato un grande aiuto da parte del Movimento delle Sardine, che ha indirizzato, facendo eco al nostro grido di aiuto, ha indirizzato persone, la scuola chiusa, l'università chiusa, ha senz'altro creato le condizioni per attrarre, per mandare persone, ma anche gente che si trovava a casa dal lavoro, o in cassa integrazione o come ristoratori che non potevano tenere aperto il loro ristorante e un certo numero di questi ristoratori si è proposto a venire a fare da mangiare da noi per tenersi in allenamento, scherzavamo, no? Gente con grande disponibilità volontariamente è venuta a darci una mano e questo per noi è stato e continua a essere ancora un valore, un vero valore. Noi siamo un'associazione che ha aumentato il proprio annovero di volontari, volontari attivi che ci consentono di fare dei turni in squadre giornaliere di lavoro in tutte le mese e ogni giorno sono quasi 45-50 volontari che a rotazione vengono a darci una mano. Li abbiamo disposti in turni perché qualora dovesse succedere una positività in un turno sospendiamo quel turno, lo mettiamo in quarantena e possiamo, voglio dire, continuare a garantire il servizio. Ecco, è una cosa molto ben fatta questo, questo signore che vedete, amici all'ascolto, è un signore che insomma se ne intende anche di organizzazione, di volontariato. Io vorrei che Giovanni tu adesso ci facessi una mappa delle cucine e degli orari e delle modalità anche, chi può rivolgersi alle cucine popolari. Benissimo, allora le cucine sono al momento funzionanti tre, la quarta è sempre sul nastro di partenza, ma è diciamo incastrata in procedure burocratiche di autorizzazione eccetera e speriamo di sbloccarla al più presto. La prima, che è quella che è sita in via del Battiferro 2, è nata nel 2015 a luglio ed è quella più grossa, quella che diciamo ha più storia e è cresciuta e oggi, come ti dicevo, viaggia sui 300-310 pasti al giorno, per cinque giorni la settimana. La seconda mensa è nata, è nata in, che si trova in via Berti, non perdono, non in via Berti, in via Sacco, in quartiere San Donato, presso il centro anziani Italicus, anche lì in modalità di asporto, anche oggi ha fatto 100 pasti, questa voglio dire è nata inizialmente in via larga, poi ci siamo spostati presso questo centro anziani e anche qui è nata l'anno dopo, nel 2016. Nel 2017 è nata la terza mensa in via Berti Angolo Pier Crescenzi, dove c'è il bestial market, lo chiamavamo così, c'è il centro anziani Saffi e dentro c'è la nostra terza mensa, che anche lei si aggira sul centinaio di pasti per cinque giorni alla settimana. Quindi parliamo di 550-600 pasti al giorno tra tutte le mense, dai numeri che hai fatto, 300-350 la più grande del battiferro. Sì ovviamente questa è una media, c'è il giorno che c'era un po' di meno, c'è il giorno che c'era un po' di più, nella punta massima siamo arrivati alla cifra che tu hai detto, adesso stiamo diciamo sui 520-530. Orari e possibilità? Ah, l'orario mi sono obligato a dirti. Adesso l'orario, come ti dicevo, a partire dalle dieci e mezza incominciamo a distribuire i pasti che i turni di lavoro hanno cominciato a preparare il giorno prima, in modo tale, al pomeriggio del giorno prima, in modo tale che da poter essere puntuali e incominciare la distribuzione alle dieci e mezza a battiferro o verso le undici e alle altre e arrivare all'una e mezza avendo smaltito la fila delle persone. Chi può venire a ritirare un pasto alle cucine popolari? Allora, noi non siamo un'associazione a porte aperte, cioè passa di lì qualcuno e viene a mangiare. Ci vengono indicati da diversi soggetti, soprattutto dai servizi sociali, bassa soglia, i servizi sociali dei quartieri, poi le parrocchie, poi le associazioni del territorio che possono aver incrociato persone che hanno bisogno e vengono mandate presso di noi e vengono registrate nel nostro database, nel nostro registro. Noi consegniamo loro una tesserina in modo da agevolare le fasi di riconoscimento quando vengono a ritirare i pasti. Ovviamente c'è anche una parte di passaparola che soprattutto durante la pandemia è viaggiata. Noi per diversi mesi abbiamo dovuto fronteggiare persone che venivano direttamente da noi, senza passare dai servizi sociali, perché erano veramente tanti, i servizi sociali erano rallentati anche loro da tutte le regole e le norme e noi ci siamo trovati a dover gestire una realtà per noi nuova che abbiamo dovuto pian piano recuperare, confrontandoci poi successivamente con l'aiuto dei servizi sociali e ricostruire i nostri elenchi. Adesso ci stiamo lavorando sopra per migliorare ancora di più la capacità di accogliere le persone che ci vengano inviate e noi stessi a indicare ai servizi le persone che incrociamo e che vengono da noi a chiedere che hanno bisogno, perché peraltro non sempre hanno solo bisogno di un pasto. I bisogni che rappresentano e di cui chiedono risposte sono molto ampie, noi non possiamo darli tutti, allora è bene costruire reti di relazioni in modo da inviarli nei posti adeguati e questo è un segmento su cui vorremmo migliorare molto la relazione con tutti i nostri interlocutori. Un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire... Molto velocemente Giovanni perché siamo in chiusura. L'ultima cosa che volevo dire è la quantità di cibo che ci viene donato dalle varie realtà che avevamo già incrociato prima come contrasto allo spreco alimentare, ma poi la pandemia ha creato a noi dei vantaggi e purtroppo ai ristoratori o alle grosse realtà che producevano pasta e dei problemi perché hanno dovuto svuotare frigo, freezer eccetera e ci hanno inviato tanta roba che a noi è servita per fare da mangiare, per arricchire ciò che diamo ai nostri ospiti. L'altra grande caratteristica è che la quantità di bonifici che abbiamo ricevuto a sostegno soprattutto in questi ultimi mesi, soprattutto a dicembre, in un mese solo ci sono arrivati 400 bonifici che hanno alimentato le nostre entrate e la possibilità di acquistare ciò di cui abbiamo bisogno. Una grandissima solidarietà, quindi ci testimoni da parte anche della città così come una grandissima conoscenza e apprezzamento c'è per le cucine popolari. Giovanni Melli, presidente di Civibo, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, salutaci il nostro amico Roberto Morgantini e avremo occasione ancora di risentirci prossimamente. Intanto buon lavoro e grazie. Grazie a voi, grazie, grazie.